musica 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 è molto strana come cosa eh scala grazie mille caro per il lost grazie grazie di cuore tristezza tristezza sono a meno 210 punti oggi il lavoro di due giorni e che cosa serve la win in arrivo musica 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 non pensavo che la wingman fosse così buona per i bubble fight musica musica serve un backpack ma no anche mirando uh questo lo prendiamo no l'ho hitato a random totale bomb io sono tipo full loot treno non lootato let's go non arrivo primo bin c'è la purple da una viola non c'era già il knockdown non ci arrivi non ci arrivi riusciamo a bloccare il treno buttagliela giù una droppato una viola no si mi serve anche quel leva 8 prendo anche quello io ti sto lasciando cose se mi beccano a dire ragazzi io ho voluto bene allo stazio no no il mio purple è qui no hanno dolpato e due ha buttato anche la via si in modalità butta tutto oh dove ti va arrivo così stavo scoutando per dire strano che si è tutto lootato qua sono lì dentro tipo non posso fargli una zippita avrei di tutto e li faccio entrare ok catto crackato 70 facciamo altro team da diare dovete vincere eh un shot dato io mi resto io mi resto pesata 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 coprimi coprimi via adesso io che c'ho la golden buck dai perfetti che culo ragazzi wow 6 colpi di mastiff 14 14 in 6 colpi di mastiff wow non ti sentiamo da un momento vero cioè non parlavo però ho detto ho detto bravi che gg vai tanno qua davanti a me tira una nade davanti a me davanti a me ok c'è una viola switch lì avanzo 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 con te avanzo avanzo con te cercate la rete davanti a me il patto ha un hp il patto ha un hp il patto ha un hp ma che cavolo ma che è successo l'hai vista? sto inseguendo in casa si è andato di qua uno borne 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 l'altra è andata di qua la verita è ancora incata? no è morta è morta adesso l'ho mortata nooo quella viola ma che caccia non parti e nessuno con bolt ma se ci fermiamo un secondo e lupiamo c'ho il titolo c'ho il titolo eccolo lì aspetta che lo sto ancora ci sono zipline c'era una tonalata di casse prima se non sbaglio so il loot che ho killato no? magari dicono andiamo a snickarcelo eccoli aspetta che non mi hanno visto credo sto arrivando andiamo a prendermi qualche cosettino anch'io eh zippala no non ci hanno visti non ci hanno visti mi nascono sotto il ponte mi nascono sotto il ponte ok arrivano di qua di qua di qua di qua li swingo io addosso a lui ravenante low uno è parfall graccato gli ulto graccato mi ha dato in paging la rate dove è andato? molto dietro molto dietro ok sotto di me si si questo è un attuncio va va very awesome perchè ho la sensazione che abbiamo qualcuno dietro? perchè probabilmente è così ahhh ci prendiamo la casetta ce la chilliamo magari facciamo un ambush mhm mamma mia strano sentirlo da mox ormai mi hanno rotto talmi intanto le scatole tra zero stroke pet questi ambush ormai pensavo fosse la disperazione della season che te la fa ti fa fare questa cosa no no c'è un drone di crypto dove sta accadendo il loot qualcuno mi sta mirando qualcuno mi sta mirando forse il drone sudete sudete di fronte di noi tre uno ha crackato gold no dovete venire basso aspettate aspettate ci rifacciamo aspetta ci rifacciamo no no arriva un drone c'era un drone che è arrivato da la e lì c'è un team che arriva da là dici? si secondo me era loro parcheggiato per l'humber può essere perchè la ulti di crit si è arrivata troppo fast preferisco preferisco prevenire che tu l'ha e invece e invece la fate a venire mox ci provo vedi mox veniva no non stavamo farti distuare prendi la zip prendi la zip già adesso mox no 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 non sono lì cioè sono no vabbè finché sta là e non si fa bombare è tutto bene ci hanno tipato ci hanno tipato ci hanno tipato l'altro team e non ho preso l'hanno preso venite da qua venite da qua ci siamo da qua ci lo facciamo si si vieni qua ti copro io tu corri dritto tu corri dritto se dice oh boy quelle amo le prendo se lasciano la casa gliela prendiamo eh se volete da me da me da me uno lì ha visto ha visto ha visto ha visto solo mezza ha visto solo mezza ha un HP ha un HP un HP eh scap oh grazie oh baby ok che forse è arrivato si si è arrivato il team è arrivato il team è arrivato il team stanno guidando non è mia non è mia non è mia vieni qua dentro mox vieni vabbè ok e indovina cosa c'è dopo quest'ulti c'ha quest'ulti lì lì che ha creato un HP gb qua stiglio sotto 23 flash 37 uno crackato un altro crackatissimi crackatissimi un HP bella 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 eh tunnel 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 eh occhio ah ah aspettiamo no good I've been down brother io dovrei riuscire a bollare instant fallo fast sto tirando Phoenix hai un TP eh sì dovevo andare in casa andiamo in casa? eh sotto la casa fightano hard con i master mi sto guardando qua mi posso prendere qua sì dovrebbe scappare ragazzi sono 3-3-2 probabilmente i due team da 3 stanno fightando là dentro il team da 2 è qua che gira non era possibile che sia qua possiamo scoutare li stanno pushando guarda quanto è molla falli noctare falli noctare falli noctare non c'è fregge non c'è fregge non c'è fregge è tutto a casa avete light? zero ti 3 flash al CB di qua 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 davanti a me mi sa che sono low davanti a me prossima ulti via la fanca intatto 90 per cento hai bisogno di finis faccio prima vai quanti evi avete messo una zipline questa non c'era prima il 99 per cento ultimi ce l'ho carica ce l'ho carica di me è giocabile le annulltati il tetto non è la mia non è mia da qua potrebbero arrivare da farlo ma se arrivano a pollo e io un posto ingiocabile l'abbiamo già giocato una volta che sei fai giocabile c'è o stanno sotto la casa o dentro la casa o sopra la casa torresa nostro una venga 40 e le light in più tommy escono sul tetto sono messi malissimo devono sfacciare e dobbiamo far riuscire pur che bada non piccata non piccata se li diamo lenti ragazza per tranquilli basta difendiamo solo ma noi tranquillamente possiamo fare ragazzi appena parte la sei possiamo fare bolla dietro nel caso ma io farerei perché si sparano tutti tra di loro sono tutti in casa sono tre team in casa si sparano tra di loro e via il problema è che se gli dai il posta cover è per loro no non è giocabile non è giocabile quel coso però me lo prendono mettiti te copri te con gli scuotipi non è giocabile non è giocabile il bin è giocabile si mi sembra di sì il bin si si 16 minuti secondi e parte delirio ragazzi sì 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 ma perché vedo attraverso la smooq troppa no troppa con tp un altro tp li ulto ho ultato mollato contemporaneamente difendiamo la bubble difendiamo la bubble ho tolto il gibbo caustic ha preso il tp 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 uno ok morta mancava una squadra mi sacca il knock down d'oro vero oh si non è uscito quello da spararmi era il rotto invece già già avevamo la posizione degli dei avevamo si sarebbero dovute alleare tutti e tre i team a tirare tutte le ulti del gioco per per coglierci quella posizione ok